E' stato presentato in Sala Iace il nuovo sito web istituzionale del Comune di Udine, il rinnovato portale di collegamento tra l'amministrazione comunale e i cittadini udinesi. E' un lavoro che ha impegnato tutto il Comune, è stato molto corale perché riorganizzare tutti i contenuti del sito pubblico significa scocciare tutti i servizi, tutte le aree di cui è composto il nostro Comune. E' stato un lavoro che si è sviluppato circa 12 mesi. Tante le novità con l'obiettivo innanzitutto di semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione. Prima esistevano diverse piattaforme, c'era il sito istituzionale, lo sportello telematico, la piattaforma delle segnalazioni. Ora invece è stato racchiuso tutto in un unico sito, moderno ed intuitivo. Sì, le novità sono diverse e soprattutto la novità più significativa è che sono stati riorganizzati in maniera molto potente tutti i contenuti dal vecchio sito al nuovo sito. Questo significa maggiore facilità poi nella ricerca delle informazioni, ad esempio. E comunque questa organizzazione delle informazioni è una cosa fortemente voluta dall'Agenzia dell'Italia Digital a cui standard ci siamo ovviamente adeguati come tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia.